Avevate fatto degli appelli anche ai politici, visto il decreto Lorenzin sulla sanità, si parla di Aslunica, si parla di tanto altro, ma non si parla di effettivamente quello che poi i cittadini andrebbero a soffrire. Certo, proprio così. Noi avevamo fatto un appello appunto a giugno affinché tutti i politici terramani, qualsiasi partito, quelli che poi ci rappresentano al Consiglio regionale, ma anche i vari sindaci, eccetera, affinché lavorassero tutti insieme, proprio perché l'Asla di Terramo avesse Terramo come ospedale di riferimento, quindi come ospedale al top di secondo livello, il che vuol dire secondo livello avere tutte le specialità previste proprio dal decreto Lorenzin. E queste ce le ha, ce le aveva e dovevano essere potenziate e migliorate laddove c'erano delle carenze. E il secondo ospedale, quello di Giulianova, che non poteva essere e non può essere un ospedale di base, eventualmente anche senza pronto soccorso, ma deve essere e rimanere un ospedale di primo livello, anche perché, come sappiamo benissimo, sulla costa terramana dal mese di maggio fino a settembre, ha rinoltrato la popolazione triplica se non quadruplica, quindi il cittadino deve poter trovare nella struttura pubblica la soluzione ai suoi problemi sanitari. Questo è un punto forte che noi chiediamo. Il cittadino terramano, che poi l'ASRA di Terramo ricade, ricoppia, diciamo tutta la provincia di Terramo, andrebbe ad aumentare la mobilità passiva dell'ASRA di Terramo, ma non soltanto un discorso economico per l'ASRA, ma soprattutto quello che a noi importa principalmente è che il cittadino si troverebbe in difficoltà, e il cittadino con problemi sanitari si troverebbe in difficoltà e dovrebbe quindi spostarsi.